TELENOVA GIORNALE TELENOVA GIORNALE TELENOVA GIORNALE Sono dei limiti dettati dalla normativa comunitaria che ci impongono di distinguere tra danni non eccezionali che possono essere coperti dalle assicurazioni e danni che invece sono eccezionali e quindi entrano in una casistica particolare. La giunta di governo ha già deliberato lo stato di calamità per questa zona quindi questo ci agevolerà molto. Adesso si tratta di coordinarsi bene con gli ispettorati, con le condotte, coloro che agiscono sul territorio per creare non colli di bottiglia ma pratiche che vanno velocemente a segno. Si opererà immediatamente cercando di preparare delle pratiche, delle descrizioni del danno che possano rendere giustizia della quantità e della entità del danno subito e su quello si cercherà di trovare le risorse necessarie per un ristoro. Gli accertamenti nelle aziende proseguono una vera e propria task force dell'ispettorato d'agricoltura? Sono impegnati i funzionari di questo ispettorato presenti su tutto il territorio della provincia di Rarcusa già fin dalle 8 di lunedì. Stanno valutando tutte le segnalazioni che via via arrivano agli uffici periferici e alla sede centrale per procedere a quella che dovrebbe essere una delimitazione del territorio e soprattutto la stima del danno. Sono ad oggi pervenute circa 350 segnalazioni di danni rispetto alle quali sono state già avviate accertamente e conclusi. Mi risultano circa 250, quindi un intensissimo lavoro da parte dei funzionari di questo ufficio. Le organizzazioni agricole chiedono un intervento straordinario per salvare il comparto agricolo. La CIE insieme alle altre organizzazioni ha chiesto il blocco immediato di tutti i pagamenti, sia IMSS sia l'esposizione bancaria, le tasse e tutti i tipi di scadenze. Io non ricordo una catastrofe uguale, considerato che tra l'altro questo avviene dopo che avevamo avuto l'inizio d'anno terribile perché da un lato c'era stato lo sciopero degli autotrasportatori e poi il freddo e la neve su che aveva bloccato la nostra commercializzazione, l'accordo europeo-mediterraneo. Adesso questa calamità che veramente rischia di mettere in ginocchio completamente l'agricoltura di questa provincia. E quindi questa sera speriamo che con l'assessore riusciremo a mettere su almeno un progetto per dare respiro e sollievo ai nostri agricoltori. Le serre sono distrutte, nel pieno campo pure, molte stalle, molti magazzini nel territorio dell'alto piano, sono andate distrutti e quindi anche i vigneti, non i vigneti, siamo in un momento veramente drammatico. Noi crediamo che occorrono degli interventi straordinari che vanno coordinati anche col governo nazionale in considerazione di quanto sta discutendo il governo Monti per le calamità del neve del nord Italia, e quindi vorremmo sicuramente che anche la Sicilia rientrasse in questi danni, ma anche con un provvedimento proprio. Pensiamo alla Crias, per esempio, che potrebbe essere rifinanziata per dare un primo ristoro con interventi soprattutto per la ricomposizione delle scorte e quindi anche per poter dare nuovamente la possibilità agli agricoltori immediatamente di rimettere su le strutture serricole o di ripiantare o di riprendere le coltivazioni. Ci auguriamo che l'incontro con l'assessore sia proficuo da questo punto di vista. Noi come organizzazione staremo addosso ai governi nazionali e regionali per delle risposte pronte, immediate, quanto più è possibile, fattive. Protesta di un gruppo di genitori davanti alla sede distaccata del Gian Battista Vico di Ragusa, vale a dire l'ex magistrale per intenderci. Oggi questa protesta, ma per quale motivo? Allora, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso perché, come vedete, poi avrete modo di vedere, non so se entrerete, i locali che ospitano i nostri ragazzi per studiare, quindi per sei ore al giorno, sono a nostro parere, da genitori, quindi non da tecnici, poco idonei alla vita scolastica dei ragazzi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, che dicevo prima, è stato l'ultimo maltempo che c'è stato, l'ultimo due giorni di maltempo che ci sono stati, che hanno scoperchiato parte del tetto. La cosa, diciamo, all'inizio sembrava che fosse semplicemente una sistemazione di quattro tecole e in effetti è stata fatta, la provincia si è immediatamente mossa, i tecnici hanno sistemato il tetto, per due giorni i nostri ragazzi non sono venuti a scuola, stamattina all'ingresso mi sono ritrovato tutti i ragazzi qua davanti che non volevano entrare, da genitore mi sono chiesto qual è il motivo, i ragazzi si lamentavano che gli ambienti erano peggiorati, andiamo a vedere con altri genitori, andiamo a vedere se è la classica voglia di non andare a scuola o se ci sono dei problemi reali. Siamo entrati con dei genitori, siamo andati dentro, in effetti altro che classi pollaio, qua sono delle classi assolutamente invivibili in questa situazione, hanno bisogno sicuramente di essere sistemate, pulite e asciugate, non so come possa essere fatto, perché tecnicamente non conosco il problema, ma le pareti che grondano acqua non possono essere sicuramente delle stanze che accolgono dei ragazzi. I ragazzi non vogliono perdere la scuola, anche perché qua ci sono delle quinte, le quinte sono state ospitate immediatamente nella sede centrale, diamo atto che il Preside ha provveduto, perché le quinte hanno gli esami quest'anno, devono fare gli esami e non possono perdere giorni di scuola, non che quelle delle altre classi possono perdere giorni di scuola, per carità. Però noi non chiediamo miracoli, noi vorremmo semplicemente delle stanze dove i nostri ragazzi possono essere accolti per sei ore al giorno, che siano comode, confortevoli, adeguate, quel minimo, indispensabile che possa servire per stare sei ore in una stanza in compagnia di 20 persone. Ricorre oggi, a distanza di tre anni, la morte del piccolo Giuseppe Brafa, il bimbo modicano azzennato e ucciso da un branco di randaggi a San Pieri. Lo ricorda l'oratorio salesiano di Modica, Alta, luogo dove Giuseppe amava trascorrere del suo tempo libero e giocare a calcetto. Alle dieci c'è stata la visita, la premiazione del concorso Sogno Modica Alto, che è stato promosso per i ragazzi delle scuole, una grande partecipazione, ha riscosso questa iniziativa. Poi, oggi pomeriggio, l'amichevole di calcio, ma il momento più atteso è la cerimonia per la posa della prima zolla, l'avvio dei lavori per la realizzazione di un campetto in erba sintetico all'interno dell'oratorio, che sarà intitolato proprio alla memoria del piccolo Giuseppe, che in questo cortile si divertiva a giocare al pallone con i suoi amici. Da tempo è stata avviata una raccolta di fondi proprio per sostenere la realizzazione di questi lavori. Intanto, proprio ieri, si è celebrata l'udienza per il processo. 7. Venerdì, penultimo appuntamento di Ergasterion, fuggina di archeologia, il ciclo di conferenze che è stato organizzato da Sicilia Antica alla sezione di Ragusa. Siamo con la Presidente, Clorinda Rezzo. Bene, che cosa dobbiamo aspettarci da questo penultimo appuntamento che è incentrato sulla topografia? Sì, allora, come sempre ci saranno più relatori che si alterneranno, si succederanno. I primi tre interventi saranno incentrati sulla topografia, anche se gli argomenti sono piuttosto vari perché abbiamo lasciato molto liberi in tutte le giornate, ma abbiamo trovato questo filo conduttore. Toccheranno ovviamente territorio locale, quindi non solo il ragusano ma un po' la provincia e ci saranno tre sfumature diverse. Toccheranno Santa Croce e Camerina, indirettamente e anche direttamente perché un argomento parlerà proprio di bagno di mare e vigna di mare, due degli edifici molto discussi. Saverio Serra farà un argomento un po' più generale, parlerà della costa ma anche dell'entroterra e poi Ornella Bruno parlerà un po' dalla fondazione di Camerina ma guardandola da un nuovo punto di vista diciamo più topografico appunto. In appendice ci sarà poi un intervento di Gabriele Fatuzzo che invece toccherà un argomento che è rimasto singolo per cui abbiamo messo in appendice alla giornata di oggi che riguarderà invece le tecnologie applicate ai beni culturali, in particolare l'utilizzo del laser all'archeologia. L'appuntamento è alle 17.30 all'auditorium San Rocco di Ibra che così rivive anche di questa nuova linfa. Come è andato finora il ciclo di conferenze? Tanto proprio riguardo alle location a parte tutti i problemi che abbiamo avuto con San Vincenzo Ferreri che sono stati problemi generalizzati insomma alla città di Ragusa è stata anche una buona iniziativa dal punto di vista proprio locale perché molti hanno conosciuto questi luoghi, queste auditorie che non conoscevano soprattutto San Rocco che è insomma un po' defilato, un po' ai limiti e diciamo che ormai lo conoscono abbondantemente anche perché il pubblico è abbastanza fidelizzato abbiamo avuto una presenza sperata ma inaspettata perché insomma una base di 40-50 persone a ogni appuntamento e tenere per 9 appuntamenti una quantità del genere mi sembra un buon risultato almeno per Ragusa che è una località molto piccola e diciamo di periferia riguardo a questi eventi. Non possiamo che essere contenti anche se abbiamo analizzato per bene insomma l'evento e abbiamo sottolineato insomma delle particolarità, dei punti che sono da analizzare per un'eventuale prossima edizione e quindi ci saranno sicuramente delle novità e degli aggiustamenti. Una partita che vale un'intera stagione. Il Ragusa Caccio Capolissa affronta domenica selvaggio il Messina, vice capolista del torneo di eccellenza. Sospesi gli ingressi di favore e le tessere omaggio. Finalmente domenica ci sarà una partita importante che aspettiamo da tempo. Noi ci stiamo preparando per questo evento. Spero che tutti gli amici, tutti gli addetti ai lavori, i cittadini, gli sportivi e capiscono questa giornata di sport. Spero il tempo è buono, quindi invito tutti gli amici a venire al campo e vedere questa partita. Presidente, un Ragusa in gran salute dopo l'ottima prestazione a vittoria. Sì, noi siamo abbastanza sereni. Ci stiamo impegnando a ricevere il Messina. Il Messina che è un'altra squadra alla pari e alla portata nostra. hanno pareggiato solo tre partite, quattro partite, non ne abbiamo pareggiati tre. Quindi noi siamo due punti avanti. Ma questo non significa che il Messina è meno da noi. Quindi ci siamo combattuti entrambi in questo campionato d'eccellenza. Spero che ha più fortuna, che ha messo bene in campo, vinca. Sono spesi gli abbonamenti e gli ingressi di favore. Sì, gli abbonamenti e gli ingressi di favore. Questa è una giornata azzurra, quindi tutto va per la squadra. Speriamo che la gente capisca e venga in massa al campo. Qual è il pronostico del Presidente Rimaudo? Noi questa partita la vinceremo perché ce la meritiamo, perché c'è un pieno Rigoli che sa sempre il fatto suo, mette sempre i giocatori giusti. Poi abbiamo giocatori importanti come il Messina, però penso che in casa non abbiamo mai perso una partita, quindi ci credo e vinca sempre il migliore. Speriamo per il pubblico delle grandi occasioni. Sì, veramente, dovrebbe essere una giornata di sport per il Ragusa, perché ne parlano in tutta Italia per questa partita. 3-7 a 1, l'Oxain Ragusa vince in casa contro il Leonforte e ipoteca una grossa fetta della salvezza. Una partita combattuta che ha visto la squadra di Manuel Benassi ben determinata nel primo e nel terzo set. Vittoria doveva essere, vittoria finalmente è stata. L'Oro era la loro ultima spiaggia e quindi noi dovevamo approfittarne in tutti i casi, in tutti i modi. Fortunatamente l'approccio non è stato dei migliori e ci ha permesso di andare avanti 2-7 a 0, anche perché noi siamo partiti molto, ma molto bene. Abbiamo temuto un po' il rientro loro del terzo set e noi un pochettino abbiamo avuto un calo di concentrazione, un calo fisico soprattutto, anche perché abbiamo avuto diversi acciacchi in settimana. Però fortunatamente il quarto set siamo riusciti a gestirlo bene, alla fine abbiamo un pochettino anche temuto per il finale, però alla fine siamo riusciti a prendere questi tre punti e a distaccarci dal Lago Negro di ben sei punti. Quindi ora speriamo bene per le prossime partite, speriamo di riuscire a prendere punti anche nelle partite più ostiche, più difficili per noi e speriamo di raggiungere questa meritata e tranquilla salvezza. Ragusa si conferma l'abbezzaniera del Leonforto? Sì, in effetti è un po' di tempo che non riescono a batterci e oggi sinceramente la posta in paglio era altissima, nel senso che loro lottano come noi per rimanere in B2 e quindi venivano qui a giocarsi la partita con tutte le armi. In effetti credo che è venuta una bella prestazione, sia da parte nostra all'inizio e per i primi due set e poi che c'è stato anche un callo di tensione che abbiamo saputo sopperire nel quarto set. Sapevamo che con Leonforto ci giocavamo veramente tanto e devo dire grazie e bravi ai ragazzi che veramente hanno giocato col cuore oggi e giocando col cuore non potevamo non venire a capo di questa partita. Avevamo tutto dalla nostra, il fattore campo, la tradizione favorevole però se non metti in campo quel qualcosa in più non c'è tradizione che tenga e devo dire che a parte il terzo set dove c'è stato un leggero calo fisico anche mentale perché veramente nei primi due set abbiamo dato veramente tanto poi sono stati pressoché perfetti giocando comunque sotto una grande pressione però ancora bravi e complimenti a tutti. Grazie a tutti.